Ma io penso proprio di sì che ci stiamo avvicinando a passi da gigante, mi sembra di poter dire che la data del 15 febbraio verrà mantenuta e quindi mi auguro che gli ultimi problemi tecnici possano venire superati e che dal 15 riprenda quella fase attuativa che dovrà passare attraverso passaggi di consiglio, la sottoscrizione dell'accordo eccetera eccetera però mi sembra di poter dire che il 15 si dovrebbe essere sicuramente il documento definitivo. Presidente, in attesa dell'autonomia la Regione ha approvato la tua bandiera? È un piccolo passo avanti anche questo, significativo, sono molto contento e bene. Grazie. Presidente, Presidente, il suo tanti nemici, tanto onore ha scatenato qualche polemica. No, io non raccolgo nessun tipo di polemica. Né di provocazione. Grazie. Assessore, una macchita... Assessore. Assolutamente.